Buongiorno a tutti, oggi vi volevo parlare di una cosa di me, della mia fotografia, che mi ha sempre fatto un po' strano, quindi voglio anche sapere che cosa ne pensate, del fatto che io non ho, da un punto di vista della fotografo, di me fotografo, di quando fotografo, non ho un genere preferito. E questa cosa è strana perché a volte è successo che qualcuno mi ha chiesto che tipo di fotografia fai? Ora, magari a un professionista questa domanda è secondo me ragionevole da fare perché poi chiunque lavori si specializza in un genere per questioni di marketing, per questioni anche se volete di massimizzare l'organizzazione anche fotografica, che è sempre importante per, è la cosa principale se volete anche proprio per un professionista, per cui sapere ogni aspetto che ruota intorno a quel tipo di fotografia, che non è solamente il fare la fotografia, cioè scattare la fotografia, ma anche tutta la parte di preparazione, in realtà c'è sempre la parte di preparazione, anche nella fotografia amatoriale ci può essere. Per amatoriale intendo non da principiante, intendo amatoriale nel senso di chi lo fa per amore e non per professione, cioè non fa fotografia per guadagnare del denaro, per vivere insomma, per campare. Capisco che ci siano persone che amano la fotografia di paesaggio, ad esempio per il semplice fatto che gli piace stare in mezzo alla natura e quindi in qualche modo le due cose insomma si autoalimentano, no? Cioè ci piace andare a fare delle passeggiate magari in montagna, scoprire nuovi posti e di conseguenza fotografare e puntare su quel tipo di fotografia vuol dire anche avere occasione per uscire in quei luoghi che amiamo e allo stesso tempo ovviamente siccome siamo spesso fuori perché ci piace quel tipo di ambientazione, facciamo spesso fotografia di quel tipo e ci abituiamo a fare fotografia di quel tipo. È ovvio che da un punto di vista tecnico alcune questioni tecniche sono diverse tra un genere e l'altro, ma in realtà non più di tanto e comunque tutta la parte di tecnica sappiamo che è importante quanto basta. La parte importante secondo me in una fotografia che cambia la fotografia e rende una fotografia più interessante e più valida di un'altra è diciamo il soggetto e il modo in cui questo soggetto viene presentato ovviamente se un bel soggetto viene presentato male e organizzato male all'interno di uno scatto ovviamente perde e quindi non credo si possa considerare una buona fotografia o comunque rispetto magari a una dello stesso soggetto però valorizzato in modo che poi appunto dipende effettivamente un po' dal genere. Però in generale non credo di preferire la fotografia di paesaggio rispetto alla fotografia delle città, di architettura, fotografia di ritratto, street photography su street photography ho parlato in un video che lo lascio qui. Adesso vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ha senso quando viene incasellata in un ambito di reportage in cui noi raccontiamo ad esempio una città la classica fotografia di reportage che si faceva tantissimo una volta si fa ancora ma è meno famosa se volete che ha dato luogo alla street photography ma l'intento non era fotografare per strada così l'intento appunto era quello di raccontare le città che negli anni insomma del dopoguerra erano il centro del nuovo mondo, del nuovo modo di vivere. Credo che sia più quindi un interesse nel racconto di un determinato argomento piuttosto che relativo al soggetto in sé, al modo di fotografare. Almeno questo ecco è per me. Non capisco almeno io quando esco se vado a fare della fotografia di paesaggio, se vado a fare della fotografia di street, se vado a fare dei ritratti, se ad esempio appunto porto la macchina fotografica con me perché vado in un luogo che non conosco, se io preferissi un genere piuttosto che un altro ho l'impressione che magari mi focalizzerei nel fotografare non so il paesaggio che si vede di sfondo e magari non le persone o non l'architettura cittadina, la forma non so delle strade, il modo in cui le persone interagiscono tra di loro. Quindi da questo punto di vista un genere fotografico a cui dedicarsi lo troverei riduttivo. Ora, ripeto, è sempre una questione mia. Io preferisco non pensarci e non ragionare su questo discorso del genere perché ho paura che mi leghi poi, no? Vado lì a fare delle fotografie di paesaggio. Poi trovo un posto dove magari ci sono, non so, delle persone, ci sono anche, non so, dei dettagli e quindi mi dedico magari a una fotografia macro. Tecnicamente cambia molto, ma insomma, facendo le basi, credo che chiunque sappia come gestire una fotografia di paesaggio invece che una macro. e se si ritrova a fare una foto ravvicinata o di un dettaglio, non è che, oddio, adesso come faccio? Insomma, la macchia fotografica è quella. Non cambia poi tanto. Nel paesaggio è tutto fermo, magari siamo sul cavalletto, chiudiamo il diaframma, usiamo tempi lunghi. In una fotografia, non so, di naturalistica, se fotografiamo un animale, magari facciamo il contrario. Lo deduciamo dalla situazione, sapendo usare lo strumento. Non credo sia così importante, ecco, la grande esperienza nel tipo di fotografia per saper impostare la macchina fotografica. Di sicuro è molto più importante l'esperienza nel saper gestire la situazione, ma più riguardo magari al luogo. Se andiamo a fotografare una città, ad esempio, sappiamo che fotografarla in orari diversi cambia completamente. Sappiamo che, non so, la golden hour dà un certo tono alla fotografia cittadina. Fotografare all'alba dà tutto un altro mood perché ci sono poche persone. Fotografare nelle ore di punta può avere il suo senso con le ombre molto nette, tagliate, dure, no? E anche quello può influire nel tipo di fotografia. Ma non so quanto questo sia relativo all'esperienza in un determinato ambito fotografico. Si tratta di fotografia in generale. E generalmente, questo l'ho visto anche quando ho studiato un po', diciamo, di fotografi, fotografi che cambiano spesso genere, anche fotografi professionisti che cambiano spesso genere, riusano molto la loro esperienza in un genere quando si dedicano ad un altro genere. Salgado nel suo lavoro Workers ha ovviamente incentrato, ma come in molta della sua carriera, ha incentrato sulle persone, ma quando poi ha deciso di fare Genesi, che è a cavallo tra la fotografia naturalistica o anche fotografia di paesaggio in alcuni casi, ovviamente non ha dovuto reimparare, non credo si sia trovato spaesato nel tipo di fotografia. Probabilmente non ci ha nemmeno pensato. Semplicemente ha voluto veicolare un messaggio attraverso un racconto, attraverso la macchina fotografica. E credo che questo sia fondamentale e il mio, diciamo, modo di vivere la fotografia è un po' questo. Cercare di migliorare sempre di più in questo, nel rendere un'idea in fotografia. Non credo nelle mie fotografie che ci siano foto più brutte di paesaggio rispetto a quelle di street photography. Le foto brutte sono brutte, sono senza senso in modo trasversale su tutti i generi, e anche le foto che più piacciono a me, e devo dire anche, senza volersi vantare, però insomma le persone che effettivamente hanno apprezzato delle mie fotografie, ho notato che, insomma, questo apprezzamento è stato su fotografie di generi completamente diversi l'uno dall'altro. Allora, volevo capire se sono strano io, o se questa cosa ha un senso anche per voi, o se pensate che sia sbagliato, che sia magari derivato dalla mia condizione, dal mio non essere un bravo fotografo, e magari essere un fotografo acerbo, magari, e che quindi questo discorso lo faccio solamente per questo motivo, perché non ho trovato magari il mio genere. Ora, da un punto di vista del tempo, fotografo da tanto tempo, immagino che, insomma, avrei dovuto trovarlo, un genere mio preferito ormai. Ditemi, sono curioso appunto di sapere sia cosa ne pensate del mio approccio, e sia quello che è il vostro approccio alla fotografia, se avete un genere preferito, perché, e in che modo questo eventualmente vi condiziona, o perché pensate che sia meglio avere un genere preferito, se cercate di evitare di distrarvi magari con altri generi volutamente, o se proprio non riuscite magari ad approcciare un genere e invece ve ne piace un altro. Insomma, parliamone nei commenti. Ovviamente, se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi se non siete iscritti, campanella per essere aggiornati sui nuovi video. Grazie mille di avermi ascoltato, come sempre buona fotografia, qualsiasi genere sia. E alla prossima! Ciao ciao!